200 buoni per la visita a Palazzo Vecchio, 500 per quella agli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, 400 per l'Accademia della Crusca, ma anche 150 buoni per 5 barattoli di pennarelli o 1.500 per un tablet. Sono alcuni dei regali di Unicop della nuova iniziativa Cresciamo Insieme, attiva dal 25 agosto al 2 novembre. La particolarità è che i buoni si raccolgono sì, nella maniera classica, uno ogni 20 euro di spesa, ma i premi andranno alle scuole, da quelle dell'infanzia alle superiori. Sono quasi 3.000 quelle invitate ad aderire all'iniziativa nel territorio di Unicop, Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, ma in teoria qualunque scuola può partecipare, magari creando una sorta di community tra genitori o amici o chiunque per raccogliere il maggior numero di buoni e scegliere poi come spenderli in base alle esigenze, cancelleria, tecnologia o visite ai musei più o meno famosi del territorio. Saranno insomma proprio i clienti di Unicop che, dopo aver raccolto i buoni, decideranno a quale scuola destinarli. Con le scuole ormai collaboriamo da tanti anni, dall'82 che abbiamo questo progetto di educazione al consumo non sapevole che anche quest'anno, tutti gli anni, portiamo avanti. Quest'anno abbiamo voluto integrare questa attività che è istituzionale, riguarda più la nostra volontà appunto di essere coerenti, la nostra missione e quindi di educare i ragazzi anche a un consumo consapevole. E a proposito di consumo consapevole tornano Bob Broccolo, Carla Carota, Frenzy Fragola, Rudy Aglio e compagni. Insomma i vitamini che quest'anno si fanno proprio mini, dimensioni ridotte, stesso principio. Un tema che è quello appunto dei vitamini, della giusta alimentazione.